L'accordo tra il Consiglio regionale e l'Asso Stampa e l'Ordine dei giornalisti per uno spazio a disposizione dei freelance è un'iniziativa lodevole per supportare una categoria in difficoltà e dare un'opportunità ad una crescente fetta dei giornalisti che oggi lavora fuori dalle redazioni. Tuttavia è necessario trovare una soluzione, vedere i libri della biblioteca nei locali del garage e personale costretto a lavorare in uffici faticenti non è possibile. Gli spazi disponibili sono tanti, lo dichiara il presidente del gruppo regionale di Forza Italia Inezio Zullo a seguito del servizio giornalistico con il quale Punto TV ha sollevato la questione. Spesso prosegue Zullo e dimentichiamo che quando si affrontano nuove realtà si deve tener conto della situazione esistente. In questo caso mi appello al buon senso del presidente Entrona perché trovi una location alternativa per la redazione oppure per i testi della biblioteca e il personale ripristinando le migliori condizioni lavorative per tutti. Grazie a tutti.